Il Taranto, dopo il pari nel derby contro il Sansevero, torna al successo allo Iacovone, battendo 1-0 il Pomigliano, sesta vittoria nelle ultime sette partite per la squadra allenata da Cazzarò, che resta al quarto posto solitario in classifica a quota 45 punti. Gara molto contratta e con poche emozioni quella dei Rosso-Blu contro la compagine Campana. Al settimo il traversone di Ancora non trova la deviazione decisiva, mentre al quindicesimo il Pomigliano si fa vedere in area Tarantina con un diagonale di Pisani che termina a lato. Tre minuti più tardi ci prova la Briola dalla distanza per i Campani, para in due tempi Pellegrino. Al 32esimo è però vantaggio Taranto, corner battuto da Marsigli e colpo di testa vincente di Miale che insacca l'estremo ospite. Il primo tempo termina con il Taranto in vantaggio. Nella ripresa la squadra di Cazzarò subisce il ritorno del Pomigliano che sfiora in un paio di occasioni il pareggio. Al 61esimo punizione dai 30 metri di Marzullo e autentica prodezza di Pellegrino che toglie la palla destinata sotto il sette. Al 77esimo ci prova Mannone con una sventola dai 35 metri ma Pellegrino respinge con i pugni e poi la difesa tarantina sventa la minaccia. L'ultima azione del match è dei padroni di casa con D'Agostino che calcia un rigore in movimento e manda di pochissimo a lato. Ultimi minuti di gioco di sofferenza per il Taranto che però il triplice fischio può far festa per un successo importante per il morale e per la classifica.